Ciao e benvenuto nel mio canale. Quali sono gli errori che facciamo più spesso quando cuciamo? Le cose sbagliate, gli errori, quali sono? Allora, ti dico i miei, poi tu mi dici i tuoi, possiamo aprire un dibattito. Intanto ti dico i miei. Prima di tutto, questo non è un errore che solitamente faccio io, magari facevo all'inizio, quando utilizzavo dei fili diversi. Per esempio, un filo di cotone, un filo di poliestere. Un filo diverso, per esempio, nella parte superiore, quindi nella spoletta, e un filo diverso nella spagnoletta che si mette nella parte inferiore della macchina per cucire. Devono essere uguali. La stessa tipologia di filo è lo stesso colore. Se questo non viene fatto, si rischia che il filo si spezzi, il punto viene fatto male, si rischia, insomma, di non fare un lavoro perfetto, fatto bene, come deve essere fatto. Come possiamo ovviare? Allora, ricordarsi sempre che il filo deve essere uguale. Quindi il filo che usiamo nella spoletta superiore deve essere uguale, non solo per quanto riguarda il colore, ma anche per quanto riguarda la tipologia del filo. Io solitamente uso il poliestere, quindi all'inizio magari potevo trovare... All'inizio mi sono trovata in una situazione del genere perché avevo filo in poliestere, ma anche filo in cotone. Quindi mi è capitato che il filo si spezzasse e altri inconvenienti di questo tipo. Quindi il filo nella parte inferiore, quindi nella spoletta inferiore, deve essere identico. L'unica chance che ti posso dare per utilizzarli diversi è se stai cucendo due tessuti di tessuto diverso, di colore diverso più che altro, più che di tessuto di colore. Quindi se nella parte superiore stai cucendo, per esempio, un tessuto rosa, e sotto un tessuto fucsia, per dire, li puoi scegliere diversi, perché giustamente è un tessuto magari che vuol fare double face, chiaramente sopra andrà il filo rosa e sotto il filo fucsia, in modo tale che sia più bellino, più pulito come lavoro. Quindi un errore è proprio non cambiare il filo a seconda del tessuto. Questo è un errore che facciamo in molti. Non so se tu lo fai, me lo farei sapere. Non metto l'ago giusto a seconda della stoffa. Allora, adesso chiaramente lo faccio, però è un errore che ho fatto per anni. Non cambiare l'ago. Io ho fatto dei video sugli aghi. L'ultimo che ho fatto è abbastanza dettagliato. Vattela a guardare se non l'hai ancora visto, perché è veramente utile conoscere gli aghi. Gli aghi che dobbiamo utilizzare a seconda del tessuto che andiamo a lavorare. Ed è molto importante cambiare l'ago. Perché se tu non cambi l'ago, il tessuto viene cucito male. E poi, se tu usi un angolo sbagliato, a seconda della stoffa che stai cucendo, quale sarà il problema? Che l'ago si può spezzare, perché se stai usando un ago troppo fine per un tessuto che è grosso, l'ago si spezza, inevitabilmente. Quindi, cambiare l'ago. Allora, dopo quanto tempo si cambia l'ago? Gli esperti in macchine per cucire ci dicono ogni due settimane. Non lo so, io non lo faccio, devo dire la verità. Però consigliano ogni due settimane. Quindi, se tu la usi in maniera regolare, la macchina per cucire per due settimane, andrebbe cambiato l'ago. Perché l'ago comunque si è in qualche modo rovinato. Anche se non ha dei danni visibili, comunque l'ago è rovinato. Quindi, anche questo è un errore. Altro errore, non imbastire. Io ho visto che tantissime persone non imbastiscono. Cioè, non esistono più i ponti molli e l'imbastitura. Ormai è considerato un qualcosa di antico, da sartina del 1900. Boh, secondo me, certi capi, se non vengono specialmente, io sto parlando del cucito sartoriale. Il cucito creativo possiamo anche evitare. Ma il cucito sartoriale, senza fili lenti, marche. Chiamala come vuoi, marche, fili lenti. E l'imbastitura, l'imbastitura è importantissima. Perché ti permette anche di appiattire il tessuto in determinate situazioni. Per esempio, se state facendo una giacca, il bavero della giacca, le cuciture vanno messe in un certo modo. Va imbastito. Perché il tessuto lo aiuti a prendere quella forma grazie anche all'imbastitura. Quindi è fondamentale. Quindi difidate da chi non vi consiglia di fare le imbastiture. E un errore che viene susseguente a questo è quello che tu metti magari gli spilli invece di imbastire. Cioè, è una conseguenza. Se non fai l'imbastitura, metti solo gli spilli. Invece bisogna remettere prima gli spilli e poi imbastire e poi togliere gli spilli. Questo è il procedimento giusto. Che poi io sia antica, la naftalina, sarta la naftalina. Questo io non lo so, perché comunque così si dovrebbe essere. Poi chiaramente non so quante persone cruciano in piedi e frattolosamente. Ecco, la fretta è una cattiva consigliera. Quindi cercate di ritagliarvi una parte della giornata, se riuscite, non sempre possibile, e quella parte della giornata deve essere un motivo di rilassamento e un momento per voi, che voi ritagliate per voi stesse. Quindi è un momento tuo, che tu stai ritagliando per te. E te lo devi godere. Quindi fare le cose in fretta, a parte che vengono male. E poi non te la godi. Ecco, quindi anche se cuci dopo cena, comunque, quindi in un momento della giornata in cui sei stanca, hai fatto tante cose durante la giornata, comunque sia in quel momento calma. Il cucito ci deve aiutare alla calma. Ecco, un qualcosa che a me ha insegnato tantissimo il cucito è la calma. Perché io ero, quando ero piccola, un'isterica. Io ero, ce l'ho ancora questo carattere, perché è un carattere sanguigno, che sto cercando di modificare in tanti modi, e ci sono riuscita, per tanti versi ci sono riuscita, però il mio carattere è quello. Ma il cucito mi ha aiutato tantissimo a modificare in meglio il mio carattere. Perché con il cucito non ci vuole fretta. Non devi... Poi tra l'altro ti esce a mano una cucitura, ti vorrebbe voglia di prendere il tessuto e spaccarlo. Non è uscita la cucitura. Invece no, ti abitua alla calma. Pazienza, non è uscita la cucitura, prendo lo scuccino, scuccio e lo rifaccio. Quindi ti abitua a diventare una persona migliore il cucito, secondo me. Altro errore è prendere le misure a occhio. Così, a occhiometro, come si può dire. No, non c'è niente di più sbagliato. Il cucito è fatto di misure precise. Più precisi siamo e più il lavoro verrà fatto bene. Non pulire o oliare la macchina per cucire. La macchina per cucire, come tutte le macchine, ha bisogno di manutenzione. Per cui noi, almeno una volta al mese, dobbiamo smontarla, pulirla e oliarla. Perché fa sì che la macchina ci duri più a lungo. E, diciamo, ci evita di portarla dal tecnico. Nel caso, ecco. Perché molti dei problemi che può avere la macchina per cucire sono lo sporco. Sembra strano, però è così. Quindi, mi raccomando, apri la tua macchina per cucire, smontala, pulisci e oliala, almeno una volta al mese. Altro errore che io facevo sempre, sempre, un errore che facevo sempre, è iniziare dieci lavori contemporaneamente. Cioè, ne iniziavo uno, lo mollavo, ne iniziavo un altro, oppure tutti contemporaneamente. Prendevo la stoffa, il cartamodello, facevo tutti. Io sono cambiata anche in questo. Perché? Perché il cucito ci porta alla calma e a fare le cose uno per volta. Che poi è una cosa che, una pratica, che comunque può essere applicata nella vita di tutti i giorni. Perché è una pratica positiva. Iniziare una cosa e finirla. Non iniziarle tante insieme. Perché si crea il caos. Quindi, anche questo mi ha aiutato tantissimo. Non solo nel cucito, ma anche nella vita. Perché una volta che tu impari un qualcosa, nel cucito, automaticamente, come una magia, si proietta anche nella vita di tutti i giorni. È una cosa strana. Non so se ti è mai capitato, fammelo sapere. O se l'hai mai notata questa cosa. Controllare il cartamodello. Quando noi, per esempio, rileviamo un cartamodello da una rivista, oppure l'abbiamo disegnato da noi, quindi siamo magari modelliste, bisogna sempre controllare tutte le parti del cartamodello. Cosa voglio dire? Che dobbiamo misurare se la spalla del davanti coincide con la spalla del dietro, se i giro manica coincidono con lo scalfo della manica, se il tutto, diciamo, combacia. Ecco, la lunghezza dell'abito, la lunghezza della maglietta, combacia il davanti con il dietro. Tutte le parti devono combaciare. E ti assicuro che gli errori in questo campo si fanno veramente spessissimo. Io ne ho fatto veramente tanti. Una volta che avevo cucito, c'era una parte più lunga dell'altra, una parte che non coincideva. Perché? Perché io non avevo controllato tutte le due parti. Usare la taglia e cuci. Anche questo inizialmente mi capitava molto spesso, non sempre, ma molto spesso. Io iniziavo a cucire e in pratica prendevo parti dei lembi di stoffa che erano dietro o che erano sotto. E quindi mi cuciva tutto. Quindi rovinando il lavoro. Quindi bisogna... ecco, ritorniamo alla calma. Ecco perché ci vuole la calma. Perché la fretta è una cattiva consigliera e ci fa fare anche questo tipo di errori. Quindi bisogna stare attenti e fare le cose sempre con calma. Cercando, andando con la taglia e cuci, mettendo bene la stoffa, continuando ad andare, mettendo bene la stoffa, andare, bene la stoffa e andare. Ecco, così. Passo passo. Senza avere la fretta di finire. Perché la fretta ci fa sbagliare. Lo faccio ancora. Non usare il vitale. Lo so. Lo so, lo dico spesso. Io non riesco a usare il vitale. Non ci riesco. Cioè, io non ci... Quando io prendo l'ago in mano, io non mi viene neanche nell'anticamera del cervello di prendere il vitale. Ma neanche nell'anticamera. Niente. Buio completo. Niente. Ho una serie di vitali. Li ho comprati. Quelli che non fanno male alle dita. Quelli che sembra che non ce l'hai. Niente. Non ci riesco. Non mi viene in mente. Questo è il mio problema, sicuramente. E tu riesci a usare il vitale. Molte mi ridicono sì. Altre, ma la maggior parte no. Mi rendo conto che la maggior parte non usa il vitale. Quindi mi sento molto vicina. Vicina. Mi sento consolata in questo modo. Va bene. Siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero che il video vi abbia tenuto a compagnia. Perché comunque YouTube è anche di intrattenimento. Spero che vi sia stato utile. E anche, insomma, divertente. Se è stato così, un bel like. Condividere il mio video nei vostri social. Mi raccomando. Iscriversi al canale. Ti mando un grande bacio. Sartoriale, creativo. Ma soprattutto, terapeutico. Alla prossima. Ciao.